Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati ci prepariamo alla solennità della Santissima Trinità. Domenica scorsa con la solennità della Pentecoste abbiamo concluso il tempo di Pasqua, un tempo durante il quale abbiamo meditato e siamo stati educati a tratteggiare attraverso la liturgia il profilo del credente, il profilo del discepolo di Gesù, morto e risorto. Oggi la liturgia ci fa fare una sorta di sintesi del cammino compiuto fino ad oggi. Se ci riguardiamo infatti indietro noteremo come la liturgia ci ha svelato giorno per giorno, domenica in domenica, il Dio Uno e Trino, la Santissima Trinità, della quale oggi celebriamo la festa. Noi crediamo in un Dio in tre persone. Ma cosa significa? Riguardiamo al cammino. Dio Padre dal balcone del cielo ha osservato come l'umanità dopo il peccato di Adamo ed Eva si fosse smarrita, avesse perso la via, fosse divenuta incapace di ritrovare la via che conduce al cielo. Ed ecco che ha cominciato a mandare i profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, eppure il popolo non li ha ascoltati, non ha dato retta e è arrivato addirittura ad uccidere i profeti perché voce scomoda. Ed ecco che alla fine il Padre mosso da compassione verso questa umanità ferita e smarrita ha mandato il suo unico figlio, l'unigenito Gesù, l'avvenimento che abbiamo celebrato a Natale. Quel figlio di Dio che si è fatto uomo per noi condividendo in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ci ha insegnato il desiderio del Padre, ci ha insegnato a ritornare al Padre fiduciosi perché il Padre è buono e misericordioso, tanto che a Filippo che gli domandò di mostrarci il Padre, Gesù stesso risponderà chi ha visto me ha visto il Padre perché il Padre è misericordia e fedeltà e gioia. Questo ci ha insegnato Gesù ed è un Padre che è amore misericordioso, che non ha confine a tal punto che Gesù morirà in croce pur di salvarci, pur di aiutarci a ritrovare la via e ritornare al cielo. Così Gesù nella sua morte e risurrezione ci ha ritracciato la via al cielo, ci ha sbarrato la porta per tornare al Paradiso, lì, quella casa dove lui ora ci attende. E giunto in cielo ci ha donato lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, mistero che abbiamo celebrato a Pentecoste. Padre che si commuove, il Figlio che scende per noi per la nostra salvezza e che una volta asceso ci dona lo Spirito. Dio Uno e Trino, Santissima Trinità, Dio Amore. Per amore Dio si è commosso, per amore Gesù ha dato la vita e lo Spirito non è altro che relazione d'amore. Di questo mistero oggi le letture ce ne svelano pian piano tutta la freschezza. Nella prima lettura viene tratteggiato chi è il Padre, nella seconda lo Spirito Santo, nel Vangelo il Figlio Gesù. Ma ascoltiamo, il popolo è in cammino e quello che Mosè vuole far comprendere, dice il testo del Deuteronomio, è far comprendere che il loro cammino è opera di Dio. È Dio che libera il popolo, è Dio che provvede, è Dio che custodisce il popolo, è Dio che lo salva nel deserto, è Dio che ha scelto il popolo di Israele non perché è più potente o numeroso, ma unicamente perché Dio ama questo popolo. Vi fu mai un popolo liberato dalla schiavitù grazie all'intervento di Dio? Ebbene sono domande che mirano a far cogliere le grandi opere che Dio, a partire dalla creazione, ha mostrato e manifestato al popolo di Israele. Ma come Dio ha fatto con il popolo, così Dio continua a fare con ciascuno di noi, dietro a tante coincidenze. C'è semplicemente la divina misericordia, la divina provvidenza di Dio. A noi allora evitare di lasciarci schiacciare dalle mode del momento che ci portano a vedere le cose come fossero dinamiche di un oroscopo o di una cartomante, ma è semplicemente la provvidenza di Dio che agisce in noi. Non lasciamoci schiacciare da questa dittatura degli oroscopi, delle cartomanti, ma neanche dagli istinti o dagli istanti della vita. Dio opera nella nostra vita come un tempo operò con il popolo di Israele. Spalanchiamo gli occhi perché credere in Dio è garanzia di libertà. La seconda lettura ci tratteggia lo Spirito Santo. Dice Paolo nella Lettera ai Romani che è Dio che ci ha donato lo Spirito, quello Spirito che ora grida nei nostri cuori Abba, Padre. È lo Spirito il nostro maestro interiore. È lo Spirito, dirà Gesù, che grida e ci difenderà, ci ispirerà le parole giuste da dire in ogni momento. È lo Spirito, il maestro interiore che dimora nei nostri cuori. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. La nostra vita, il nostro corpo è Tempio di Dio. Lasciamoci guidare dalla voce dello Spirito che parla e sussurra nei nostri cuori la via d'amore che siamo chiamati a percorrere per essere fedeli a Dio che è amore. Il Vangelo, infine, ci presenta e ci tratteggia il Figlio. Ascolteremo gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo, lì dove i discepoli vengono mandati in Galilea dopo la morte e risurrezione di Gesù. E così gli undici tornano in Galilea obbedienti a quando è stato detto loro. Sono undici, la comunità è imperfetta, imprecisa e segnata dal tradimento di Giuda a dimostrazione di quanto siamo fragili, perché anche noi abbiamo una parte mancante. Ebbene, si torna in Galilea lì dove tutto ha avuto inizio, lì dove Gesù ha chiamato i primi discepoli, dove li ha incontrati. Ecco, ritornare alla quotidianità, ritornare al primo amore, all'origine di tutto e da lì essere certi che dentro la vita quotidiana incontreremo Dio e dentro la vita quotidiana saremo chiamati a testimoniare la gioia che Dio è amore. Andate, dice Gesù, e battezzate in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tutte le genti. Ecco il progetto pastorale che Dio ci ha affidato. Non è fatto di tante carte o di tante pagine, ma di poche cose essenziali. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Immergete, coinvolgete quanti incontrate nell'esperienza dell'amore di Dio, di quel Dio che è amore, Padre amore, Figlio amore, Spirito amore. Questo è il progetto pastorale. Non c'è un decreto, non c'è una regola, non c'è un comandamento, non c'è nulla che siamo chiamati a portare se non la gioia di essere stati amati e salvati da Dio. Dobbiamo mostrarlo con la nostra vita, con il nostro sorriso, con il nostro sguardo, con le nostre opere di misericordia. Questo siamo chiamati a portare dentro la storia di tutti i giorni. Ecco cosa significa celebrare oggi la festa della Santissima Trinità. Aver compreso chi è quel Dio provvidente che guarda dal cielo, quel Dio provvidente che si è fatto Figlio per noi, condividendo in tutto la nostra avventura umana, per comprendere quel Dio che ci ispira nel cuore ogni cosa e ci difende lungo il cammino della vita. Di fronte a questa parola, così complicata sotto un certo punto di vista, ma così bella e affascinante, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che riassume proprio questo messaggio. Ascoltate. Dio Padre. E qui ricorda tutto il tema del Deuteronomio. Dio Santo e Misericordioso, che nelle acque del battesimo ci hai resi i tuoi figli, siamo figli di Dio. Ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre. San Paolo, la seconda lettura. Perché nell'obbedienza alla parola del Salvatore annunziamo a tutti la salvezza offerta a tutti i popoli. Ed è il Vangelo. Andate a tutte le genti e battezzatele. E ora io vorrei concludere con la preghiera che ho composto, ma prima di concludere vorrei solo ricordarvi che c'è un segno che riassume tutto questo. Ed è il segno della croce. Un segno che ci ricorda che Gesù è morto in croce per noi e che quel segno non è un segno di sconfitta, ma è un segno di vittoria, è un segno di amore. Non c'è amore più grande che dare la vita. In quel segno, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ricordiamo che Dio è uno ed è trino, ma nello stesso tempo in quel segno chiediamo a Dio che illumini i nostri pensieri, scaldi i nostri cuori, ci aiuti ad ascoltare lo Spirito e guidi le nostre azioni. Ma in questo segno ancora c'è quasi una sorta di abbraccio ogni volta che ci facciamo il segno di croce. È un lasciarci abbracciare da Dio. Che bello allora se imparassimo a recuperare al mattino e alla sera questo gesto, che è una preghiera. In quel gesto c'è tutta la preghiera in Dio. Al mattino, perché Dio mi custodisca durante la giornata e guidi i miei pensieri, i miei sentimenti, il mio agire, proprio secondo lo Spirito dell'amore. E a sera, per ringraziarlo della giornata, è perché Dio mi custodisca lungo la notte. Recuperiamo questo gesto tra marito e moglie, genitori e figli. Recuperiamo questo gesto. Impariamo a essere fedeli ma anche fieri di fare questo gesto. È il gesto che ci contraddistingue come cristiani. Non vergogniamoci della nostra fede. Non vergogniamoci che Dio è amore e ci ama. E il mondo mai, come in questo momento, ha bisogno di segni d'amore. E io invece concludo con questa preghiera, ma prima di recitarla, auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana. Padre creatore, tu che mi hai sognato e desiderato, ancora prima di essere ricamato nel grembo di mia madre, a te gratitudine e lode, padre buona. Figlio salvatore, tu chiamandomi per primo ti sei fatto uomo fino a dare la vita per me, peccatore, a te gratitudine e lode, fratello ed amico. Spirito santificatore, dono del padre e del figlio, che mi rendi lieto e forte per divenire credibile credente del Vangelo, a te gratitudine e lode, mio maestro interiore. Onore e lode a te, Dio che sei amore e comunione, Dio che sei padre, figlio e Spirito Santo. Amen.